Avigliana ultimo appuntamento per questa ventiduesima edizione del Due Lagi Jazz Festival. Una settimana all'insegna della musica, ma anche dell'arte nella cornice di Avigliana. Questa sera, in piazza Conte Rosso, Fulvio Albano Quartet si esibisce con il Trumpet Summit. Siamo alla ultima serata del Due Lagi Jazz Festival qui in piazza Conte Rosso. Questa sera i grandi artisti e anche dei grandissimi amici mi accompagneranno in questo percorso. Per concludere in bellezza la ventiduesima edizione del Due Lagi Jazz Festival. Due Lagi Jazz Festival che anche parte ormai del consorzio Piemonte Jazz. Quindi un'attività che si dipana, che si sta organizzando a grande livello su tutto il territorio della regione. E benvenuti a questa serata conclusiva, ma ci fa dire naturalmente che la magia del Festival Jet di Avigliana si ripete, si può ripetere e dico subito che si ripeterà nel tempo. Questa sera festeggeremo con Byron Landam, grande batterista di Finadelfia, Aldo Zunino al contrabbasso, Massimo Farao che sta suonando adesso al pianoforte. Io al sassofono e avrò il piacere di invitare due grandissimi trombettisti. Phil Harper, uno tra gli ultimi musicisti che hanno collaborato con Arblecchi. E mio grande amico storico, sono 30 anni che lavoriamo insieme, Dusko Gojkovic. Forse è considerato uno tra i principali protagonisti della scena jazzistica europea, riconosciuto a livello mondiale. Abbiamo chiesto al batterista Byron Landam qualche impressione sulla serata e sul significato del jazz per lui. Questo è il primo anno qui in Avigliana a lavorare in questo festival con alcuni great musicisti. Phil Harper, Dusko Gojkovic, Massimo Farao e Aldo Zunino. Abbiamo lavorato con il jazz per gli ultimi 30 anni. Quindi, jazz è la mia vita. È probabilmente la musica più espressione della musica che potrai essere involvati con, in termi di libertà e l'espressione. Quindi, è sempre stato un piacere per me, come e share la musica internazionale, e soprattutto con le persone che apprezzano la musica per quello che è. Poi, anche la musica internazionale, trombettista Philip Harper qualche impressione sul festival. E' something I like to see more and more. I'm having a good time, and I hope to continue. Philip Harper ci ha raccontato le influenze per lui determinanti. I'm having a good day for golf. Give me some trouble. And you can bet your life it rained. I tried to give a party, but the guy downstairs... ... ... ...